adesso vi faccio vedere una cosa che toglie più soddisfazione al mondo ad un allevatore guardate un attimo eh adesso io vado e chiamo i cuccioli guardate qua eh vediamo vediamo come sono vedete che sono tutti là guardate quando li fanno i cali guarda guardate guardate la carica di 101 ciao ragazzi ciao cosa hai portato ciao amore ciao ciao gioca buono piano con i cuccioli gioca guardate qua e il bambino questo va a Roma questo va a Roma da Leonardo ciao ragazzi ciao